Un momento importante, Alvasarie rientra in un preciso progetto. Sì, il progetto è quello della legalità. Il tema centrale oggigiorno è soprattutto in relazione all'educazione dei giovani. Per avere cittadini rispettosi della legge e delle regole bisogna educare i giovani, questo è il concetto. La scuola deve entrare in questa prospettiva. E quindi sfruttiamo la conoscenza dell'avvocato figlinese Silvio Pittori che gentilmente ci ha messi in contatto con l'illustre personaggio della procura del Tribunale dei Minori di Firenze, il dottor Sangermano, che è appunto molto sensibile alle tematiche della legalità ovviamente in relazione all'universo giovanile. Quindi stamattina verrà a fare un incontro con i nostri studenti di quarta e di quinta.